Vai, ciao Svideo! Ciao! E sono insieme a Joshua Cassini e a Link4Carbon! Buonasera a tutti ragazzi! 13 ore di gioco in un giorno e mezzo! Ma che cane? Ti vedo! Sei uscito dalla pietra! Mamma mia! Ma come fai? Come fai a uscire dalle pietre? Guarda qua, guarda qua! Cioè capisco Carbon Fossile! Cioè lui è abituato a uscire dalle pietre! Dopo è la rana, la rana, la rana! Aia! Comunque adoro le ave, per il cecchino è ottimo! Perché uccidono tutto quello che ho intorno! Ma invece i teschi ti distraggono un attimo nemici! Dobbiamo trovare il drago, almeno livelliamo un po' col drago! Sì, io non l'ho ancora visto il drago! È una luce moneta bizzarra ragazzi! Moneta bizzarra! Ottimo! Questo non spona quasi mai! Che culo! Io ne ho tre! Io ne ho tre! L'ho trovata oggi in un dungeon! Ah però no! A me non me l'ha data! Nel senso... Me l'ha segnata per voi ma non per me! Pensavo che potevo accumularla! Mi sembra che è una quest per un'arma! È una quest per un'arma, sì! È vero, ok! Allora bene, è da fare! E questo teschio qua che c'è dietro? È mio! Sono le abilità! Guarda! Partissimo! Almeno ci copre! Dov'è quella? Il buco è quello? Qua sì! Andiamo! È come un tesseguace! È il mio follower su Twitch! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo ragazzi! Almeno ci ripristina le cose! Cioè, boh, qua per me! Per me è te! Qua, Carbone! È una passeggiata! È abbastanza easy! Nel senso, i danni li fanno i mostri! Però... Guarda! Guarda! Con il 200 di danno i miei teschi come se ne vanno da solo! Guarda! I miei teschi! Vanno via in giro come se fosse... Come se fosse loro il mondo, eh! Tu con l'immortale... Ha raggiunto l'arrivo della vita da solo! Ma il quante danno gli avevi fatto! È una bella sfida, eh! Non è questione di danni, è questione di resistenza! T-Shot all'immortale! Ma non c'è una torre, raga! Eh, non c'è più la torre, mi sa! Forse è esplorabile questa zona, ora! O sbatteremo a pregare all'improvviso! Dovrebbe esserci! Può apparirà quando arriveremo a metà strada, non lo so! Io sono... Ci sono davanti, ma non so niente! C'è un buco! Ti sono rubati la torre! Non c'è più la torre! E adesso? E adesso? E ho tenuto l'asporto! Oh, cagnaccio! E' vero se c'è... Hanno lasciato ancora qua il loot! E' riformato il loot! Ok? Sì, quelle cose più comuni si riformano! Sì, il ferro! Aia! A me ormai serve l'indurito del galvanizzato e dell'altro me ne faccio poco! E' a me il galvanizzato! Sono in terra! A fine di questo percorso abbiamo il posto dove andiamo! Io ho i miei scheletri che ci accompagnano! Sì, sono strautili, venite con noi, belle! Caratteristico! Mamma mia! Non mi parevano così devastanti! Stanno facendo la strada! Stanno facendo la strada! Vai! Altri due! Quando ti accorgerai di tutti i proiettori che ti sto sparando per darti una mano? Eh boh! Lascia fare qualcosa anche i miei... I miei cosi! Vai! No, c'è il bestio giù! Chi è? Niente! Sto facendo un po' male al tizio giù! C'è l'urlatore! Ah! C'è l'urlatore! Che è un boss! Che è un boss! Che è un boss! Vabbè, è un boss tra parentesi! Vediamo cosa c'è lì! Un tomo! Un tomo! Tomo! Conoscenza! Oh! 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 Morto! Non è vero, grazie della copertura! Dentro dietro! Ah no! Mi stavo spaventando nel mio stesso... Il mio stesso coso! Vieni qua che ti... Ti prendi la cura! Ah! Sei tu! Mi hai sparato un po' di colpi impatti! Eh! Scusi! Scusi! C'era il tipo lì, ma dopo! Eh! Quello giusto! No! No! Mumie! Mumie! Ma che palle! Ah! Mumie! Si resiste! Questi cosa fai? Ma questi muoiono in un attimo ragazzi! Questi muoiono in un attimo! Vabbè almeno sblocchiamo l'equipe! Ah! Carino! Una è un mago, una è l'altro! Vabbè siamo in tre, non dovremmo avere tre costi problemi! Ah no! Davanti a voi parli tu lo scuri! Ah non sono io! Bene! Braffantumatore! Oh! Fatene con me frantumatore! Hai detto che non vuole che ti giochi! Attenti! Sta venendo da voi! Arrivo! Arrivo da me! Qui qua le mie api lo stanno facendo male! Che sono spinto da parte delle api! Tanto all'altro boss invece usiamo... La mia specialità che copre tutto! Che ci copre quando l'altro boss ci sparerà! Quello... Quello che c'è dopo! Ah ho capito! Questo bastardo attacca quello che gli fa più danno! E io gli ho fatto già 800 di critico in faccia! Perché era solo me! Per un po' Quindi... Pensate al mago! Sì! È quello che gli sto facendo fatto 800 adesso! E poi i draghettini che gli sparano! Draghettini! Aspetta! Forse non si chiamano draghi! L'ho ucciso con la... L'ho ucciso con la... L'ho ucciso con la... Non lo toccate sto bastardo! È mio! Guarda è tuo! 550 più il doppio XP! Grande! Oh sì! Oh sì! Tanto qua non c'è niente a lottare! Adesso andiamo verso... Diretti spediti verso l'altro boss! Sì! La boss spetta con due cani! No! Dei cani? No! O i cani o il bestio! Il Bunk! Bestio mutante! No! È un altro addirittura! Può essere mai! Cosa c'è? Qualcosa di grosso eh! Oh oh! È il drago! È nuovo! Cos'è? Cos'è? È un pollo! Eh... Ma che bello! Oh! Questo è capivo eh! Mi piace! Perché insegono sempre me? Vieni via che ho i miei scheletri che mi stanno correndo dietro! Oh ma questo... Questo con le api... Guarda qua! Api e scheletri è volato! Dov'è? È andato sopra! È andato sopra! Va sopra e tu ci cade la testa eh! Dietro sono i Minion! Ah ah! Scusa! Vai! Tenti andare la direzione! No! Ci penso io! Ci penso io! Capri! Grazie! Grazie! Scusa! Scusa! Dov'è? 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 È lì! Scusa! Non ho capito dov'è! Scusa! Sta scappando! È infame! È infame! È infame! Eh sì! Hai gli uni piccolini! Come l'ho detto! Guarda lì qua! Hoτο e tungco! Perché faccio arrivare dai due Scheletri nuovi? Ecco dietro! Va li le ape gli Scheletri che non me lo bucono! Noo! Ma non puoi già andartele! Guarda le api La continuano a bersagliare Nonostante se ne sia andato Guarda le api come sono cattive E gli scheletri lo seguono Guarda lì Si bugano e lo seguono Quindi che arrivano Davanti o destra Ecco è morto Cos'è? Gioco termico L'ho visto prima Perché lo presentava Delusione Delusione Guarda che forse È chiave ululante No, non vuoi affrontare il boss Ma è questo anche il bello Continua a creare boss casuale Vai, vedi se la chiave ti fa più lì Ma mi sembra che sì, eh Però sarebbe un peccato Perché effettivamente non abbiamo esplorato tutto Eh sì Sì Ci lanciamo ad immortale? Dai andiamo ad immortale Sì 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 Sì